Avevamo andare a prendere due cose e abbiamo dimenticato. Lui ha dimenticato del pedale? Non se l'hai portato. Lui non ha portato il jack, non abbiamo portato un cazzo di niente. Grazie alla storia di averci sentito. Grazie per spazio aiati, per favore. No, dai, 30 secondi prima di schiacciare. Benvenuti alla selezione di Teleway. Grazie, grazie. Presentatevi al pubblico e iniziate quando volete. Buonasera. Noi siamo gli Schultz, io sono uno Schultz, lui è uno Schultz, lui è uno Schultz. Sei accorto? Quello lì è un pirla. Vabbè, allora vi presentiamo subito un nuovo pezzo, si intitola La Banda Barzotti. Sempre con lei che abbai un'eserro del pezzo, si intitola la matina. per un sogno a pecorina e alla mattina se al pensiero ci sfiora ci divertono da un giro per almeno un punto d'ora e al pomeriggio non le basso sei e specchio prometto se ti addosto però non esistri alla sera sotto le coperte sembrano essere il cappello con le tette e punta per te con le tette, per te siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti Barzotti con te siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti Barzotti con te il mio dottore mi ha dato un gruppo non sia tranquillo che con questo nome di vera duro ma il mio pombo è il piatto naturale mi ha spasso a saltare le scale senza salire le scale e al pomeriggio una vera sussiste un momento senza posto proprio non esiste e alla sera sotto le coperte sembrano essere il cappello con le tette e punta per te ma il mio dottore ma il mio dottore siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti siamo la banda Barzotti ma il mio dottore ma il mio dottore Barzotti come te grazie, grazie, grazie 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 grazie